Esordio bagnato, esordio fortunato per orticolario, che da giovedì per quattro giorni fino a domenica torna in questo abbrivio di autunno 2024 lungo la sponda occidentale però di quel ramo del lago di Como. Villa Erba nel comune di Cernobbia è l'affascinante e ormai consolidata location per la quattordicesima edizione. Un appuntamento che sia un garden show, una mostra a mercato e soprattutto un'occasione per approfondire la cultura del paesaggio. Continua a guardare questo video se sei a caccia di una guida pratica per organizzare anche tu come me, io ci vado sabato, una gita fuori porta che immerga al meglio nello spirito della manifestazione, dal tema che fa da Phil Rouge alle piante protagoniste di questa edizione. Le novità negli allestimenti, l'ospite d'onore, gli espositori, gli eventi, dove mangiare, come arrivare, i biglietti eppure come risparmiare sull'ingresso. Bentornata o bentornato sul canale di Casa con Svista, un progetto editoriale multimediale che tra blog, podcast e canale YouTube ti propone ispirazioni dal mondo dell'interior design, home and green decor, fai da te ed intorni. Io sono Gloria, una giornalista appassionata autodidatta del mondo dell'arredo. Insieme andremo a caccia di storie di case e cose utili per rendere gli spazi che viviamo ancora più wow. Orticolario apre il pomeriggio di giovedì 3 ottobre dalle ore 15 alle 19, mentre da venerdì 4 a domenica 6 ottobre apre fin dal mattino dalle ore 9 e chiude alle 19. L'edizione 2024 è dedicata a madre terra. L'evento vuol quindi celebrare il suolo e ricordare di non darlo per scontato, di proteggerlo e trattarlo bene. Le piante protagoniste di quest'anno sono quelle per l'affitto depurazione di acque e suoli, sentinelle naturali che non solo intercettano l'inquinante ma lo contrastano. Ne sono state individuate oltre 400 specie, tra queste ce ne sono alcune molto comuni, usate anche negli orti casalinghi e in giardino. Se vuoi conoscerle non ti resta che fare un salto ad orticolario. La manifestazione è un contenitore di iniziative che si rivolge a tutte le età, all'insegna della condivisione di alcune passioni comuni, come la natura, l'arte, il design, il giardinaggio e il paesaggio. A orticolario quindi trovi piante rare, insolite e da collezione, proposte da vivaisti nazionali e internazionali, nonché proposte di artigianato artistico con oltre 250 espositori complessivi. E poi ancora spazi creativi, giardini tematici, installazioni d'arte e design realizzati ad hoc sul tema di quest'anno, ovvero la terra e le piante per l'affitto depurazione. Molti poi i workshop, gli incontri, le performance per adulti, ragazzi e bambini. C'è poi un parco secolare affacciato sul lago, location in cui perdersi a passeggiare e rilassarsi. Ovviamente c'è Villa Erba, che fu dimora estiva del celebre regista Lucchino Visconti e che durante orticolario apre le sue porte con delle visite guidate, prenotabili direttamente in loco. Se sei già un habitué dell'evento, ti interesserà conoscere le quattro novità di questa edizione. Numero uno, il padiglione centrale che si trasforma in un agorà, dove hanno luogo alcuni degli eventi culturali in programma. L'edificio è vestito all'insegna del progetto Semi a terra, parole alate, firmato da Vittorio Peretto di Cortensia. Seconda novità, il gazebo nel parco, che diventa una singolare wunderkammer, dove ammirare rarità botaniche accuratamente selezionate tra gli esemplari portati dai vivaisti. Terza novità la troviamo nella piazza del Grande Prato nel parco con altro livello, l'installazione sull'affitto depurazione che è stata affidata ai vincitori del concorso internazionale spazi creativi dello scorso anno. Infine, quarta novità di quest'anno, un programma di incontri e attività dedicato nello specifico ai ragazzi dei 14 ai 19 anni. Il celebre architetto e designer vincitore per due volte del compasso d'oro Michele De Lucchi è l'ospite d'onore della quattordicesima edizione di Orticolario. A lui va il premio per un giardinaggio evoluto, per la sua attenzione verso l'ambiente sia nel prediligere materiali naturali che nel ripensare gli spazi rispettando il ciclo vitale dell'ecosistema. Inoltre De Lucchi partecipa a Orticolario esponendo anche delle sue creazioni, tra cui nella Serra Platani, in anteprima assoluta, la panchina in legno alpina, disegnata proprio per Orticolario e realizzata da Riva 1920. Una panca sovrapponibile ispirata agli oggetti senza tempo della cultura degli alpeggi, impregiato, massello di cedro naturale e profumato. Da appassionata di design non posso non suggerirti anche altre installazioni come nell'ala Lario F dove otto fiori iconici del giardiniere della moda Ken Scott si trasformano in meravigliosi arazzi sagomati, reinterpretati dall'artigianalità di Carpet Edition. Sul lungolago poi in via alla Darsena si può godere di un momento di relax e contemplazione seduti sulle panche in legno massello di cedro profumato Pure, disegnate da Matteo Thun e Curve Bench, firmate invece da Brody Neal e realizzate da Riva 1920. Poi nel padiglione centrale, nell'ala Cernobbio, Etimo che pensa al giardino come a una stanza accogliente con l'installazione che vede per protagonista la pergola ombreggiante Cosmo disegnata da MDL Circle che rende abitabile il paesaggio assieme al tavolo dining della linea Raffaele firmato da Paola Navone. Entrambi sono in tech certificato. Vuoi conoscere tutti gli oltre 250 espositori presenti a Orticolario quest'anno? Ti invito a visitare l'articolo sul mio blog www.casaconsvista.com dove trovi tutti gli approfondimenti e i link. Lampade di Anna è ad esempio uno dei marchi dei selezionati artigiani che espongono e che ti consiglio di andare a trovare. Come anche lo stand con i vasi in argilla stampati in 3D di superforma. Già protagonisti con il loro sgabello di design velaschello di un altro video che ho pubblicato qui sul canale e che ti invito ad andare a guardare se non l'hai già fatto. Ricco e variegato poi il programma di eventi che ti consiglio di consultare prima di partire e che ti linko sempre sul blog in modo da intercettare subito gli appuntamenti a cui vuoi iscriverti visto che molti workshop sono a numero chiuso. Ci sono laboratori fotografici di stampa vegetale, pittura su tessuto, corsi per realizzare terrarium, sui profumi estratti da minerali e radici, masterclass di cucina selvatica e ancora conferenze sulle api e degustazione di miele o con l'architetto ovviamente Michele De Lucchi, ospite d'onore e ancora sull'epigenetica e nutraceutica, sulla fitodepurazione eccetera eccetera. E poi performance di ballo, musicali, teatrali e approfondimenti sulla natura nel mondo dell'arte. Una sessione anche di yoga e meditazione. Come ti ho già anticipato prima, tra le novità di quest'anno, sabato sono in programma anche due laboratori dedicati ai ragazzi dai 14 ai 19 anni. Gli eventi in questione sono una masterclass di cucina selvatica e un workshop di stampa vegetale. Occhio che la prenotazione è obbligatoria. Per i bambini, gli eventi si concentrano nel fine settimana, sabato 5, domenica 6 ottobre. Sono tutte attività a numero chiuso su prenotazione. Si paga un contributo di 12 euro che consente la partecipazione dei laboratori di tutta la giornata, compreso lo spettacolo finale di Burattini. Per organizzare al meglio la tua visita a orticolario con bambini, ti consiglio vivamente di consultare prima il calendario, che comunque ti linko sempre sul blog di Casa Consvista, in modo da scegliere in anticipo a quale iscriverli in base alle loro affinità. Ma giusto per darti qualche esempio e incuriosirti dei laboratori per bambini, c'è quello dove si può fare una coroncina intrecciata con materiali naturali, quello con il cuore in argilla con i semini da piantare, animali o personaggi da costruire con l'argilla, la talpa in carta con tecnica origami, si costruisce una fioriera in legno, un ervario, un mini giardino, maschere di carta, si va alla scoperta del mondo dell'alveare, dell'armi e del miele, e poi ci sono gli spettacoli con laboratori musicali, letture animate e poi è proprio lo spettacolo finale di Burattini. Voglia di una pausa tè o caffè? Di rilassarti davanti a un buon aperitivo o necessità di un pranzo? Dall'antipasto al dolce a orticolario trovi ben 12 soluzioni tra punti ristoro e ristoranti e per l'elenco completo ti rinvio sempre al link sul blog. E ora per concludere qualche dettaglio più di carattere organizzativo se sei interessato a partecipare. Orticolario si trova a Villa Erba in Largo, Lucchino, Visconti 4 nel comune di Cernopio in provincia di Como. Il modo più emozionante per raggiungere l'evento è Via Lago con il servizio di Battello Navetta che parte da Como e il cui approdo è direttamente sul pontile di Villa Erba. Questo servizio è attivo solo sabato e domenica ed è già incluso nel costo di biglietto d'ingresso. E per gli orari del battello ti invito sempre a venire a sbirciare l'articolo sul blog con tutti i link. Il biglietto d'ingresso a orticolario è acquistabile sia online che alle entrate e biglietterie nei giorni della manifestazione presenti in loco dai vari accessi. L'ingresso è gratuito fino ai 14 anni compiuti e per i disabili. Alle casse in loco è possibile acquistare il biglietto intero con data specifica a 18 euro mentre il ridotto famiglia a 32 euro che è rivolto a due adulti che accompagnano uno o più bambini. Si può entrare anche accompagnati da cani a patto che siano muniti di museruola e guinzaglio. Se vuoi acquistare il biglietto d'ingresso a orticolario con data aperta valido quindi per qualsiasi dei giorni della manifestazione al prezzo scontato di 18 euro anziché al prezzo pieno di 22, ti spiego come fare. Da abbonata e affezionata lettrice della rivista Casa Facile ti consiglio di approfittare del seguente codice sconto da utilizzare sul sito di orticolario per l'acquisto del biglietto online. Il codice è CASAFACILE ORTIC2024 ma se vieni sul blog trovi il link e il codice da copiare e incollare più semplicemente. E tu hai già organizzato come me una gita fuori porta sul lago di Como in occasione di orticolario? Hai mai partecipato alla manifestazione? Cosa ti piace o attira di più di questo evento? Fammelo sapere nei commenti. Siamo dunque arrivati alla fine di questo video. Lasciami un bel like se ti è piaciuto e iscriviti al canale per aiutarmi a farlo crescere. Cliccando sulla campanellina saprai anche appena uscirà il prossimo video. Ti invito a seguirmi anche sul blog www.casaconsvista.com e sul podcast che trovi in tutte le piattaforme di streaming audio cercando CASACONSVISTA. Un caro saluto e ci rivediamo nel prossimo video. Ciao ciao!